Benvenuti a Super Quark, oggi parleremo delle mantidi. Quando vengono disturbate, le mantidi si sollevano in posizione difensiva per mostrare i colori vivaci del corpo. Dotata di vista eccellente, la mantide evita gli attacchi dei pipistrelli grazie a un orecchio ultrasonico situato sul torace tra gli atti mediati. Manto dei, mantidi, l'appellativo di religiose, con le cui le mantidi vengono comunicamente definite, allude alla loro modo di tenere gli arti anteriori sollevati, sollevati. Come in atto di preghiera, per quanto variabile nella conformazione fisica, le mantidi hanno tutto un capo triangolare, grandi occhi, sono gli unici insetti capaci di volgere il capo per vedere le proprie spalle. Sono per la maggior parte diurne e si cibano delle grandi varietà di erotropico. Alcune catturano anche i vertebrati come rane e l'ugine. Le femmine ripongono le uova in un astuccio o taccio di sostanza schiumosa o simile a casa e in talune specie le sorvegliano e le sorveglie. Le manzi sono soddivise in otto famiglie che comprendono complessivamente duemila specie. Grazie 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 Grazie